Qual è il significato della vostra presenza al quarto congresso fee only? Diciamo che nell'ambito del mio ruolo come responsabile nazionale private Banca Montepaschi mi devo giornalmente domandare quali sono le dinamiche del mercato nelle prossime settimane, nei prossimi mesi e possibilmente nei prossimi anni per quanto difficile possa essere. Chiaramente il mondo della consulenza sia per un preciso indirizzo normativo sia per una realtà che sta diventando a tutti gli effetti realtà importante anche nel nostro paese è un tema su cui io nell'ambito della mia responsabilità ho voluto approfondire e devo dire che da queste prime ore di contatto con questo mondo credo che la mia scelta sia stata assolutamente una scelta culata quindi è un mercato ed un potenziale su cui noi ci possiamo confrontare e possiamo dare i nostri servizi in qualità di banca depositaria quindi terzo gruppo bancario italiano rispetto ad un contesto nella realtà che a mio modo di vedere è e sarà sempre più importante. Quale iniziativa avete in cantiere per la community dei consulenti fee only? Ma diciamo noi sostanzialmente abbiamo messo in campo quattro assi portanti per sviluppare questa collaborazione con la consulenza indipendente il primo di questi campi è indubbiamente quello della tecnologia oggi noi possiamo offrire a un consulente quindi al cliente del consulente la possibilità di sottoscrivere fondi e SICAV a distanza attraverso la web la web collaboration quindi la tecnologia senz'altro è un qualcosa che è un grande presupposto per creare il rapporto con il consulente perché lo rende assolutamente trasparente lo consolida lo fa crescere poi abbiamo il tema ovviamente dell'offerta commerciale in due campi mondo assicurativo tramite la grande partnership con AXA e mondo delle gestioni patrimoniali sia nell'uno che nell'altro campo abbiamo dei prodotti che danno al consulente il pieno arbitrio su quelle che sono le scelte di asset allocation quindi a tutti gli effetti lo rende protagonista della performance nei confronti del cliente quindi è un servizio che noi diamo. L'altro grande tema è quello del tema delle fiduciarie è un tema che è assolutamente a mio modo di vedere in linea con quelle che sono richieste e bisogni del mercato e il tema fiduciario si esplica sia nel passaggio generazionale mi riferisco in particolar modo ai trust ma mi riferisco anche all'ottimizzazione fiscale noi stiamo lavorando sul consolidato fiscale a breve lo rilasceremo in fiduciaria cosa significa un consolidato fiscale? Significa che di fronte a un fisco sempre più importante nell'erodere i rendimenti dei nostri clienti abbiamo la possibilità di ottimizzare la fiscalità proprio del patrimonio mobiliare e immobiliare del cliente rendendo in fiduciaria, portando in fiduciaria tutto ciò che il cliente ha non solo presso Banca Montefaschi ma presso le altre banche e far sì che fiduciaria diventi sostituto d'imposta quindi un grande contributo a mio modo di vedere per migliorare l'impatto fiscale sui rendimenti del cliente stesso grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti